Non sembra destinato a placarsi in questi giorni il dibattito politico. Intervengono di nuovo i capigruppo al Consiglio Comunale dell'Aquila, Giorgio De Mattes di Fratelli d'Italia, Roberto Junior Silveri di Forza Italia, Daniele Ferella di Noi Consalvini, Daniele D'Angelo di Benvenuto Presente, l'Aquila Futura con Roberto Sant'Angelo e l'Udc con Raffaele Daniele. Chi di speranza vive, disperato muore. Inizia così la loro nota, un proverbio che secondo loro ben si adatta all'opposizione di centro-sinistra al Consiglio Comunale dell'Aquila. La minoranza ha pensato di attaccare, e su più fronti, spesso con motivi futili, la maggioranza di centro-destra e ora deve tornarsene a casa con le pive nel sacco, poiché queste imbettive hanno reso ancora più forte la maggioranza stessa e più solidi rapporti tra le componenti della coalizione, scrivono. Il centro-sinistra, nel devastante decennio di governo che ci ha preceduto, è stato abituato a vertici di maggioranza che terminavano rasentando lo scontro fisico. Noi al contrario abbiamo uno stile diverso, improntato al dialogo costruttivo e la città se ne è accorta. Ci vediamo due volte al mese, se in un'occasione ci sono stati dei momenti di tensione, questi accadono in tutte le famiglie, scrivono. Momenti durati un batter d'occhio, visto che l'intesa è stata presto ritrovata, senza che il clima si deteriorasse. Siamo consapevoli che il nuovo clima che si respira in comune da dieci mesi a questa parte sia diverso rispetto a quello che è stato vissuto per dieci anni. Ciò dà fastidio a qualcuno, ma è stato proprio grazie a questo rinnovato modo di fare che in men di un anno l'amministrazione del sindaco Biondi è riuscita a centrare degli obiettivi impensabili nel decennio precedente. Gli investimenti sulle opere pubbliche, il recupero dei fondi per l'Aquila in base alla legge regionale 41, i disciplinari che hanno messo ordine a tante materie a cominciare dal regolamento dello sport, il reperimento di decine di milioni di euro per interventi sul Gran Sasso. A breve ci saranno novità e il dettaglio. In poche parole concludono, a nulla dei due lustri che ci hanno preceduto abbiamo sostituito in meno di un anno, una serie di iniziative concrete e utili per l'Aquila. Alcune di queste sono in fase embrionale, non c'è dubbio, e ciò per il poco tempo che finora abbiamo avuto a disposizione, ma presto lo sviluppo sarà tangibile. L'opposizione forse tuonano, ancora non digerisce il ruolo che è stata relegata dalla città nel giugno dello scorso anno, ma deve arrendersi all'oggettività dei fatti, al fallimento del suo decennale governo e risultati che il sindaco Biondi e la maggioranza di centrodestra che lo sostiene stanno tenendo che sono sotto gli occhi di tutti.